Musica Eccoci alla seconda edizione di Food & Wine qui a Milano. Siamo nel 2013, un anno che porterà fortuna perché segna un matrimonio meraviglioso nato l'anno scorso. Naturalmente c'è un ideatore, un ideatore che ha una lunga storia nel mondo della selezione dei vini, il signor Helmut Koecher che già famoso per il Merano Wine Festival ora partecipa a questa manifestazione portando una grande novità perché lui le selezioni dei vini li fa in maniera molto personale. Anzi vorrei chiedere a Helmut quante cantine sono presenti, quanti vini e soprattutto quale caratteristica devono avere questi prodotti per arrivare in questo salotto dell'alto vino. Allora a Milano quest'anno abbiamo portato 67 cantine per l'esattezza dell'Italia e 7 cantine dell'estero più 3 produttori di culinaria. Le caratteristiche sono quelle che i vini sono stati selezionati, cioè per me personalmente è importante che questi vini siano di qualità superiore, perciò sono un po' il garante e garantisco per tutti i vini che qui oggi sono in assaggio, sia quelli nazionali che quelli internazionali. Parliamo di Francia, non voglio dire che sia una garanzia ma comunque una lunga tradizione nel mondo del vino. Uno su tutti lo champagne che rimane una chicca impagabile di questa zona. Questa maison si chiama Chassonne d'Ars, rimane nella zona più a sud dello champagne vicino alla città di Troyes, dans l'Aube. E oggi presentiamo quattro cuvée. Presentiamo un millesimato 2004, tutto chardonnay, quindi un blanc de blanc. Poi abbiamo la cuvée première, che è un champagne brut base con del pinot nero e del chardonnay. Poi abbiamo la cuvée confidence, che è un prodotto particolarissimo, che è un 100% pinot nero vinificato in bianco, un assemblaggio di tre millesimati messi insieme, 2002, 98 e 2004 e abbiamo la cuvée rosé. Mi piace potervi dare una bella novità, anzi una cosa che è giusto conoscere. Siamo nella zona del Prosecco, ma non vuol dire solo bollicina, solo vini bianchi. Anzi c'è una grandissima varietà di prodotti, che a volte non tutti sanno. Qui siamo nell'azienda Conte di Colalto, la signora Anna che ci aiuta in questo piccolo percorso. E io partirei proprio dal più particolare, un rosato, un rosato della zona di Prosecco, ma... Prosecco, assolutamente no. Questo è uno spumante, rosé extra dry, però prodotto con un'uva molto particolare, che si chiama Incrocio Manzoni Moscato 13025. Quindi, incrocio varietale di Moscato d'Amburgo per Raboso Piave. Questo è uno dei quattro Incroci Manzoni che noi abbiamo in produzione, sono anche gli unici quattro Incrocio Manzoni iscritti al registro della vita del vino. Eccoci nelle Langhe. Langhe è un nome, un vino, Nebbiolo. Nebbiolo e donne. Che abbinamento. Milena, aiutami a capire il tuo vino. Io dico sempre che noi non produciamo vino, noi produciamo i nostri vini. E da sempre, tutte le volte che abbiamo realizzato un vigneto, la domanda che ci siamo posti innanzitutto, non era qual era il vino più importante e più famoso, ma quel terreno, quel territorio, quel microclima, cosa poteva esprimere meglio. Noi siamo a Barolo, quindi potremmo anche solo produrre Barolo. No, abbiamo fatto un'altra scelta. Amiamo tutti i vini delle Langhe. Addirittura con le ue dei giovani vigneti del Barolo, noi preferiamo produrre un Langhe nel Miolo. In questo splendido contesto di Milano-Merano Wine & Food, vogliamo raccontarvi anche un vino che sicuramente non rientra in quella fascia modaiola e quindi sono quelli che piacciono a noi. E quindi ecco il perché in questo contesto voglio raccontarvi un vino che forse, ai più, sarà anche sconosciuto, domani, Ruchet. Raccontaci soltanto una cosa di Ruchet brevemente. Piccolissima di OCG del Piemonte, un vitigno autottono che oggigiorno è sempre più interessante perché va a prendere tutta quella fascia giovanile che vogliono l'esaltazione dei grandi frutti dei vini. Sarà che mi chiamo Rosita, ma io per i rosati ho un particolare amore. E qui siamo in una zona marchigiana con un vino che adesso il signor Costantino ci racconterà. Signor Costantino, vicepresidente della Tenuta Colli di Serra Petrosa, con questo vino che ha un colore molto rosita, volevo dire rosato. La prego di darci un racconto e soprattutto di spiegarmi in quale zona vi trovate. Allora, il vitigno della Vernaccia Nera di Serra Petrona si trova a Serra Petrona. Ha detto Vernaccia Nera? Serra Petrona è un paesino all'interno delle Marche, nella provincia di Macerata, ai piedi dell'Appennino, a un'altezza circa di 500 metri sul livello del mare. Qui si coltiva, è l'unico territorio dove si coltiva la Vernaccia Nera di Serra Petrona. È un vitigno autottono che nasce soltanto lì e è lì che verrà prodotto. Questo è un vino che praticamente ha una macerazione in bianco, ha una vinificazione in bianco. Le bucce credo che vengono tenute soltanto quattro ore a contatto con il mosto e poi vengono portate. Quattro ore per regalare un colore meraviglioso e meravigliosa sarà anche la degustazione che facciamo adesso perché ho il piacere di presentarvi un grandissimo chef marchigiano, amicissimo di tutti gli amici delle Marche e grande amico mio, posso dire, presentati da solo. Ciao Rosita, sono Lucio, Symposium Cartoceto. Un grande cacciatore oltre che di Cartoceto. Ma abbiamo anche altri due amici con cui condividere questo grande vino. Lei mi stia vicino perché senza di lei non è possibile. Alfonso Caputo. Alfonso Caputo della Taverna Capitano di Massa Lubrense. Un saluto a tutti. E grande amico con cui possiamo berci un bel bicchiere. Però, attenzione, abbiamo anche un ospite che arriva diretto a diretto da New York, ma è uno chef nostro. Sì, Massimo Emiliozzi, dalle Marche, fa parte dei cuochi di Marche, nonché amico del cacciatore Lucio. Però lavori a New York? Sì, sì, lavoro a New York. Bella mela, eh? Cin! I nostri prodotti in tutto il mondo. Grazie. Grazie a tutti. Allora. Grazie. Allora. Grazie. Allora.